Pesaro sarà protagonista per le prossime tre settimane di una manifestazione di ginnastica veramente straordinaria. Sono i campionati europei di ginnastica aerobica e acrobatica che si svolgeranno alla Vitri Frigo Arena partendo praticamente da oggi, da domani. Oggi ci sarà la manifestazione con la cerimonia inaugurale della prima settimana. Tantissime persone sono nella nostra città, nella città di Pesaro, per partecipare e seguire le gare. Proprio tantissimi giovani, abbiamo visto frotte di ragazzi giovanissimi provenienti da tutta Europa che già sono ospitate nella nostra città. È una forte volontà di ripartenza. È stato detto anche proprio da tutti coloro che hanno partecipato alla affollatissima conferenza stampa di presentazione una grandissima occasione per confermare il buon trend del turismo che già abbiamo visto quest'estate nella città di Pesaro e che sicuramente con questo evento avrà un rafforzamento ancora maggiore perché davvero c'è una grandissima voglia di ripartire. Sicuramente siamo contenti di essere a Pesaro. È una località ideale. Pesaro è molto buona per questa manifestazione ma non solo Pesaro. Tutte le Marche, siamo già stati nelle Marche quattro anni fa per una grande manifestazione a Dancona. Abbiamo potuto vedere l'efficienza della regione. Tutte le persone che si danno da fare per questa manifestazione stanno lavorando molto bene. Siamo molto contenti di essere qui. Sicuramente sarà una bellissima possibilità di far vedere la ginnastica. Abbiamo dell'impiantistica eccezionale nelle Marche. Possiamo portare tanta gente e quindi un indotto importante anche per il turismo, per il commercio. Qui abbiamo delle strutture importanti. Qui puoi svolgere un campionato del mondo senza battere ciglio. E questo è un ritorno per la città, per il turismo, per il commercio, per tutto veramente di qualità. È un evento che ha visto la collaborazione di tanti soggetti, quindi a partire dall'Unione Europea di Ginnastica, alla Federazione Ginnastica d'Italia, al CONI, alla Regione Marche, ma anche a livello locale. I nostri istituti scolastici hanno messo a disposizione competenze, professionalità e studenti. Poi abbiamo delle associazioni di volontariato che presidieranno i vari punti, quindi aiuteranno e aglieteranno quello che saranno i giorni di permanenza nella nostra città. È un evento di grande prestigio e siamo contenti di poterlo ospitare in quella che è una delle strutture più belle d'Italia, che è la Vitri Frigo Arena. Siamo al spazio del Palazzo Gradari, dove Esatur poi ha organizzato un piccolo ricevimento con tutti coloro che hanno contribuito all'impostazione e all'organizzazione di questa manifestazione, tanto importante per Pesaro. Oggi pomeriggio ci saranno le farfalle alla Vitri Frigo Arena, la prima delle tre cerimonie inaugurali, perché ogni settimana sarà un evento a sé stante e ogni settimana ci sarà una cerimonia inaugurale. Oggi pomeriggio saranno presenti le farfalle, quindi a dare ulteriore lustro a questa manifestazione e a questo importantissimo appuntamento per la ginnastica europea che si svolge nella città di Pesaro. Non è la prima volta che collaboriamo con la Federazione di Ginnastica Europea. Nel 2017 già organizziamo per conto della European Gymnastics i campionati europei sempre di aerobica ad Ancona, mentre nel 2018 qui a Pesaro fu protagonista la Golden Age Gym Festival, sempre organizzata appunto per la Federazione Ginnastica d'Italia e europea. Quindi non è la prima volta che Esatur si pone accanto alla grande famiglia della ginnastica europea nell'organizzazione di grandi eventi internazionali. Globalmente per i 21 giorni abbiamo 1.500 atleti divisi in 32 delegazioni provenienti da tutta Europa. Questi 1.500 poi vanno moltiplicati per i 7 giorni che restano qui a Pesaro, per cui lascio ai telespettatori il conto delle presenze turistiche che si sommano nell'arco di questi 21 giorni. È la prima competizione della Federazione Ginnastica d'Europa a riaprire al pubblico, questo ci tengo a dirlo. Sono in vendita i biglietti, quindi per chi volesse procurarseli è sufficiente andare su www.vivaticket.com e sono disponibili biglietti giornalieri per ogni competizione, nonché apriamo on-site, cioè sul posto, la biglietteria. E questa è anche un'altra grande novità, per cui invitiamo tutto il pubblico di Pesaro, della provincia di Pesaro, della regione Marche, visto che Rossini si vede in tutta la regione Marche, ad accorrere alla Vitrifrigo Arena in questi giorni, procurandosi il biglietto d'ingresso. Grazie. 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 Grazie.